Nulla di fatto ieri in Consiglio Comunale a Gela, in merito alla vicenda Porto, chi si aspettava l'avvio del ripristino funzionale della struttura portuale dovrà pazientare, ma la pazienza ha un limite. Al momento attuale, infatti, non esiste nessuna approvazione del progetto da realizzare con 5,8 milioni di euro, dei complessivi 32 milioni relativi alle opere di compensazione del progetto Eni. Attorno al progetto, dunque, c'è molta confusione. Mancherebbe sia la disponibilità della copertura finanziaria che il piano di caratterizzazione del sito, come ha confermato Giampiero Calafato, presidente della protezione civile regionale. Ieri c'è stata l'ennesima riunione al Comune, con tutti i vari esponenti, sia del tavolo tecnico, commissione urbanistica, amministrazione, dove ho notato che si è fatto un bastendietro anziché avanti. C'è qualcuno che rema contro questo progetto. Il dato di fatto è che a Gela il porto è insabbiato e insabbiato rimarrà per non sappiamo quali tempi. E quindi una cosa che dovrebbe essere normale, amministrazione, è diventata un iter quasi, direi, infinito. Non ci sto più capendo niente perché vedo che prima si va avanti e poi si torna indietro. Ma qual è il vero problema? Perché il iter attualmente è bloccato? Considerando che c'era stata una riunione proficua, se vogliamo, a Palermo, anche alla presenza di esponenti del genere civile, della protezione civile. Allora, anche noi vorremmo capire, e quanto prima cercheremo di capirlo bene, chi sono i veri responsabili di questo blocco attuale. Perché non si capisce effettivamente chi sono i veri responsabili, se è l'amministrazione comunale, se è la regione. Però io posso dire che il 28 giugno, la regione a Palermo, dove c'è stata la nostra presenza, è stato firmato un protocollo di indesa fra regioni, eni e comune. E' stato tutto verbalizzato, dove si è raggiunto un progetto di definitivo, i fondi. E quindi mancava solo ed esclusivamente la firma da parte del comune e la PEC della raffineria. Quindi mancava pochissimo per poter mandare il tutto in gara di appalto. Quindi a questo punto non capisco perché il comune non si muova e non vada immediatamente a Palermo a chiedere il nostro diritto, perché è il nostro diritto, avere questo porto fruibile. I consiglieri Maria Pingo, Megafono, Virginia Ferruggia, Movimento 5 Stelle, Salvatore Scerra, Forza Italia, hanno accusato la Giunta di non volere risolvere la questione porto, catturandosi i consensi delle associazioni e dei componenti del contestatissimo gruppo di lavoro. Il piano di caratterizzazione esiste ed è stato fatto dall'ARPA, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano, ma deve essere autorizzato dal Ministero. E' stata richiesta la verifica di non assoggettabilità alla VAS. Comunque il progetto deve essere autorizzato dalla Protezione Civile e dal Ministero. Esiste, ha detto Siciliano, un impegno tra regione, eni e comune. Invitiamo tutta la cittadinanza a venire sabato alle 3 del pomeriggio all'Otel Seno, per poterci guardare in faccia e capire cosa dobbiamo fare. Porteremo lì tutti i dati, tutti i documenti, tutte le cose valide per tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e cercare di capire chi rema contro questa riuscita di questo nostro porto. Quindi invito, ripeto di nuovo, tutti, se ci vediamo giù alle 3 del pomeriggio di sabato, questo sabato, per poter capire cosa fare per portare avanti il nostro progetto. E' quello di vedere finalmente Gela e avere un porto, un piccolo porto che è quello che a noi serve.